Ecco a voi all'opera il signor Ganimbai, il migliore Ganimbai, vedete come sta scaloppando questo denticello, adesso lo sta spinando con delicatezza, così la carne non si spappola, rimane bella compatta, il signor Ghani ci fa un bel sorriso adesso. Ganimbai, Bebeth in Bangladesh, Ganimbai, Mandarino Poo, Jasser, Jasser, manda un saluto caloroso a tutti i suoi conoscenti, amici e fratelli. Salam Aleikum, Salam Aleikum, ha detto, Aleikum Salam, ma perché non ho preso il, forse per domani riusciremo a servire questo carpaccio, signor Ganimbai. Non è partito il video, non è partito, no, vuoi schiacciare?